... Dobbiamo essere contenti che restituiamo alla città un altro attrattore, restituiamo alla città un altro spazio che potrà essere fruito. E quindi ovviamente ringrazio l'assessore Gianna Conte che fino a notte tarda in queste settimane ha lavorato per aprire il museo, tutta la città di Gaeta, Enzo Patierno che per conto della sanità, Pienza ha portato avanti tutta la direzione scientifica, poi ringrazio il Presidente della Camera di Commercio che è l'amico Gianna Campor che porta avanti il tema dell'economia del mare, della proeconomia, quindi anzi martedì saremo a Roma avuto piacere di essere invitato a questo summit che è il foro dell'economia del mare che si terrà prossimamente nel Golfo di Gaeta, l'associazione Gaeta del mare con il G passeggio che ovviamente ha creato il giusto connubio tra quello che è la tecnologia e quelli che sono un po' tutti i reperti. Questo è un museo in work in progress, un museo che si integrerà come dicevo poc'anzi, ci saranno gli upgrade durante tutti i periodi dell'anno perché sarà in costruzione in base a quello che sarà l'offerta che vogliamo dare e poi apre nel momento migliore perché ovviamente tra qualche settimana ci sarà la giornata nazionale della Marina Militare e quindi avremo modo di ovviamente mettere a disposizione di tutti coloro che verranno a visitare la nostra bellissima città anche questo museo meraviglioso che è in attesa da più di 40 anni come diceva. Ringrazio la fondazione Caboto, qui vedo il direttore Clemente Borrelli, l'istituto tecnico nautico, l'istituto tecnico economico, ringrazio tutte le scolaresche perché poi questo è un luogo formativo, è un luogo che ci deve far ricordare le tradizioni, ci deve far ricordare cosa siamo stati e cosa siamo ancora adesso, una città di mare che vive sull'economia del mare e che ha tutta una serie di comparti importantissimi come il comparto della canteristica, della pesca, delle tradizioni marinare della nostra città e quindi attraverso questo percorso ci immersiamo nella storia, nel legame tra il mare e la città di Gaeta quindi veramente grazie a tutti coloro che hanno partecipato, grazie a tutte le forze dell'ordine, tutti coloro che in questi anni hanno voluto ovviamente partecipare alla crescita della nostra città, del nostro territorio ovviamente mi farebbe piacere che il Presidente della Camera del Commercio ci assiedi. Grazie, intanto voglio dire che con questa nuova iniziativa del Sindaco Mitrano il Golfo di Gaeta si consolida ancora di più come capitale nazionale dell'economia del mare, della Blue College e credo che momenti come questi siano estremamente importanti per i territori quindi è tutto un circolo virtuoso che si sta innescando anche grazie al lavoro delle amministrazioni comunali e in questo caso l'amministrazione comunale di Gaeta ha fatto veramente tantissimo sul lavoro economico. Il Sindaco lo ha ricordato, noi il 16-17 metteremo un ulteriore tassello che già è veramente un calendario ricchissimo oggi con questa inaugurazione 160 anni da varia militare e il 16-17 giugno andiamo a completare un cerchio in cui faremo due giorni di convegno di altissimo livello su contenuti estremamente importanti che sono quelli della transizione ecologica ragioneremo sulla Blue Economy non più vista in maniera tradizionale ma con un occhio attento alla sostenibilità quindi il passaggio da un'economia del mare a una Blue Economy sostenibile che è quello che ci chiede l'Europa quello che ci chiedono le aziende con l'attenzione che la sostenibilità ambientale e la transizione ecologica devono sì raggiungersi ma attraverso un percorso virtuoso perché non ci può essere transizione ecologica se non c'è anche transizione sociale, culturale e soprattutto economica delle imprese perché i costi della transizione sono molto forti, molto impegnativi a carico delle imprese ma oggi è una giornata di festa, io veramente ringrazio Cosimino che sarà con me il Sindaco di Mitrano proprio martedì alla presentazione a Roma di questa ulteriore iniziativa per cui che cosa devo dire, viviamo in un posto di mare dove persone eccezionali come questa amministrazione vedo l'assessore Conte e tutta l'amministrazione fanno sì che diventi veramente quella che è la perla blu dell'economia sostenibile del mare, giochiamocela a Cisicolo abbiamo inventato il neologismo Grazie Presidente, ovviamente sta facendo tanto, io non ho voluto dire le date per rispetto alla Giannia Campora quello sarà veramente un'altra perla che si aggiunge e che va a arricchire il Golfo di Gaeta due giorni importantissimi con ospiti di primo livello nazionale ovviamente non vi svelo nulla perché ci sarà la conferenza stampa martedì ma tutti noi dobbiamo essere grati a lui per quello che sta facendo in questo seditore molto delicato ovviamente lascio la parola a Enzo Patierno che poi è un po' direttore scientifico di tutto quello che stiamo realizzando Sì, aggiungo solo che io ho coordinato un team di ricerca del centro di Cilab Sapienza è un museo demo antropologico, il primo nel Lazio la regione Lazio ha voluto fortemente questo primo museo dedicato al mare il pianto demo antropologico e ha già suscitato un forte interesse come format come lo abbiamo ideato anche dall'Istituto Centrale del Patrimonio Immateriale e poi ci sono tutta una serie di accrete come diceva prima il sindaco che faremo nei prossimi mesi, prossime settimane, nei prossimi mesi per dotare il museo di contenuti audiovisivi demo-entropologici infatti in maniera scientificamente coerente col territorio e l'idea è quella di aprire anche il museo una sensibilità all'ambiente marino e quindi farlo vivere dalle scolaresche tutti i giorni abbiamo un forte interesse anche da parte per esempio dell'Associazione Marevivo che vorrebbe studiare il nostro modello e replicarlo anche se è possibile nel resto d'Italia quindi tutte cose che abbiamo lavorato intanto una passarella che vuole, come vedete, vuole replicare un po' la coperta di una nave un'imbarcazione e poi abbiamo pensato di collocare sui pianali una serie di reperti che raccontano le tradizioni demo-entropologiche del territorio ma con una chiave molto multimediale, molto immersiva come notate c'è tutto un impianto scenico e degli schermi che proietteranno dei contenuti a cui stiamo lavorando che racconteranno quattro sezioni una dedicata alle tradizioni della pesca una dedicata alla cartieristica cui Gaeta è sempre stata nel tempo un importante centro poi abbiamo una sezione religiosa dedicata ai santi al culto religioso legato al mare quindi tutto il tema degli ex-voto e poi abbiamo una sezione invece dedicata a un evento meteorologico infortunale quindi una cosa di forte impatto emotivo, emozionale allora è collegato a questo museo tra qualche settimana ci sarà collegato un altro museo che sarà aperto da Gaeta il Mare il Presidente Luigi Passeggio quindi ecco lascio la parola a coloro che poi hanno operativamente lavorato fino a questa notte per cercare un attimino di partire oggi con l'inaugurazione Assolutamente grazie io voglio subito dare gli orari perché penso che è quello che voglio sapere anche subito chi vuole venire da visitare il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 12 e il pomeriggio dalle 18 alle ore 20 sarà totalmente gratuito e a proposito di questo abbiamo già invitato quelle che sono le scolarische del nostro territorio a visita per una scuola in testa naturalmente il Professor Patierno che rappresenta la digitalizzazione la sapienza di Roma si è già detto che è risposta a tutti anche i nostri ragazzi perché sono tre settori che sono stati prettamente presi in considerazione quello della pesca quello della caratteristica e quello del prodotto ci sarà quindi un economismo che avverrà attraverso anche delle attività che sono previste anche le attività dei nostri ragazzi soprattutto anche per i genitori che lavorano con i loro sensi naturalmente vuole essere un legame con la storia e l'origine di Gaeta ma soprattutto abbiamo all'interno oltre tutto l'aspetto tecnologico meravigliore che emoziona ma abbiamo unito anche il passato ecco perché c'è Luigi che è presente l'associazione Piede del Mare perché i nostri cittadini devono conoscere ciò che ha avuto il passato e come si è arrivati ad oggi quindi ho in questo punto la squadra che io tutti coloro una squadra che oggi ci ha portato all'apertura dopo veramente decenni del Museo del Mare e poi ho iniziato a rinforzare il presidente dell'associazione che insieme vogliamo lavorare senza mai perdere e finalmente abbiamo fatto questo lavoro del Mare e ho finito di essere precise al 10 e 29 stamattina questo museo è stato finanziato da Reggio di Lazio ben 20 anni fa quando era assessore alla cultura dell'anima Maria Pia Reuss ci chiamò per andare a Roma a dimostrare che Gaeta aveva il materiale per fare un museo del Mare noi abbiamo fatto vedere quello che avevamo ancora un quarto di quello che abbiamo oggi e è partito questo museo del Mare oggi finalmente si innavra e noi siamo attualmente con l'associazione abbiamo tanto di quel materiale che potremmo coprire una superficie di 1200 metri quadri tutti a disposizione sono tantissimi pezzi tutti a disposizione della città di Reggio per andare a rileggere la storia nazionale della città a partire dai re a partire dai tempi all'Italia fino a noi siamo chiaramente a disposizione del Comune dell'Unione di Reggio e dell'Unione di Reggio e della nostra Gaeta per dimostrare quanto è stata la tra parentesi l'Unione di Reggio l'Unione di Reggio di far riconoscere che è la città e la città abbiamo tutta la orientazione relativa e quindi ci dovremmo fare sempre più in questo punto valori da far acquisire alla città far riconoscere alla città grazie a Cimici no grazie a te perché voglio mettere in evidenza che l'intervento di Luigi con Gaeta e il mare è stato assolutamente essenziale ma questo vuol dire sinergia ora che aprirà la ex casa comunale il museo della marineria e quindi della cultura marinara ci sarà un'integrazione da tutti e due i musei che poi saranno integrati in un percorso museale con il museo di Ecesano con la ridotto 5 piani col museo civico che inaugureremo nelle prossime settimane dove per la prima volta nella storia della città di Gaeta sarà visitabile il campanile della casa comunale e nel percorso per visitare il campanile e quindi guardare Gaeta da una veduta diversa andremo a visitare 6 stanze dove ci saranno riproposti momenti salienti della storia della nostra città mancava un museo civico tra qualche settimana lo inaugureremo e questo grazie alla partecipazione dei cittadini perché le associazioni sono composte da cittadini cittadini che ci mettono l'anima la passione per far crescere il proprio territorio e quindi io vi voglio ringraziare fortemente di questo ci facciamo una passeggiata per me adesso abbiamo acceso le luci per guardare anche tutto quello che è l'attesimento come si ha è l'attesimento è l'attesimento grazie a tutti